Non è bastato un gol di vantaggio e un avvio di gara per avere la meglio sul Catania che comanda la classifica del gruppo B Juniors a punteggio pieno. Annesima la meridiana complice anche qualche episodio sfavorevole ma senza attenuanti vista la forza dell'avversario. Subisce il secondo KO sempre per 5-1 in questa stagione e va in vacanza consapevole di aver provato a giocarla alla pari per circa un'ora di fronte ai migliori classe 2005-2006 che sembrano non avere rivali anche coi più grandi di età. Tra le novità in organico tutte per il centrocampo a disposizione del tecnico Di Emanuele, Samuele Liotta che è subito titolare e panchina invece per Sebastiano Zante e Alessandro Rodorico. I primi dieci minuti sono dei rossi meridiane che provano a sfondare con Garzia e passano al dodicesimo quando Tolentino libera la corsa di Adam il quale porge alla corrente Arcifa la palla dello 0-1. Sin qui fuori discussione per Caede Arcifa capitano gol numero 10 in stagione miglior marcatore del gruppo davanti a Sapienza con 5, Aiello e Adam con 4, Garzia e Cavallaro con 3, Nicotra con 2, Mirabella con 1. Al ventiduesimo cambia completamente l'esito del confronto per un presunto intervento falloso di Garzia su Di Stefano l'arbitro Calderone di Acirale fischia con evidente ritardo una punizione per il Catania Pelleriti riceve e dal limite lascia partire un destro da applausi sul quale Mazzeo in campo da pochi minuti al posto dell'infortunato Ferrara fa quel che può ed è 1-1. L'ex Federico Cristaldi lo scorso anno era under 17 Meridiana va vicino al sorpasso al minuto 25 ma per la svolta definitiva passano altri due minuti. Il direttore di gara concede un calcio di rigore ai padroni di casa ma con evidente errore perché è Cavallaro a subire fallo e per di più dopo aver liberato il pallone ben prima di un avversario. Paradiso dal dischetto fa 2-1 e mette le ali alla Catania che chiude in avanti con un pericolo di Russo a 10 minuti dall'intervallo al termine di un fraseggio che non concede tregua alla Meridiana e poi con lo stesso Russo rafforza il punteggio allo scadere del primo tempo andando a realizzare il 3-1 e sfiorando anche il poker con Paradiso che si divora un pallone facile facile a tu per tu con Mazzeo. Nella ripresa Aiello cerca lo scossone per far riprendere da 20 minuti di shock i suoi rileva Liotta e da subito dà la carica triangolando con Arcifa, Malamira e tutt'altro che precisa. Più incisivo è il Catania che con un paio di passaggi e con giocate in velocità riesce ad andare per la quarta volta a segno. Paradiso la difende spalle alla porta e colpisce il palo di sinistro ribatte Pelleriti e fa 4-1 al minuto 4 esordio a questo punto di due nuovi al quarto d'ora Rodolico rileva Adam e al posto di Garcia c'è Zante in campo che è subito pericoloso sottoporta quando si presenta all'appello al termine di questa iniziativa firmata Sapienza-Aiello ma spreca un match point per provare a rientrare in partita. Qualcosa di simile accade poco dopo ma la difesa avversaria ci mette i mezzi per chiudere i due della meridiana e così si rimane sullo 4-1. L'ultimo cambio ordinato da Di Emanuele è l'ingresso di Barchitta per Arcifa. Poi la partita è comandata dalla Catania che nella seconda parte della ripresa prima sfiora la quinta rete con Cristaldi e poi la realizza col neo entrato Corallo quando corre il minuto 27. Quattro interventi finali di Mazzeo evitano un'imbarcata ingenerosa per una meridiana che perde sì 5-1 ma rimane tra le top del campionato juniores. Seconda con distacco nel girone di B come detto a 18 punti dentro una fase provinciale che girerà la Boa lunedì 16 gennaio. Al seminara sarà ospite come da calendario della Leo Soccer alle ore 19.